sì sorteggio euro 2020 sorteggio qualificazioni ad euro 2020 per fortuna c'è di mezzo l'italia ma credo che sia abbastanza obbligato per fortuna detto questo seguiremo insieme proprio i sorteggi eccolo qua i numeri dell'europeo 55 nazionali 10 gruppi 24 qualificate alla fase finale 12 città ospitante quattro partite a roma semifinale finale a londra wemblay detto questo diamo immediatamente il via alla sigla e speriamo di evitare la germania perché è perché vabbè a tra poco ragazzi sta per cominciare il sorteggio partiamo dalle quattro vincitrici dei rispettivi gironi della nation's league vediamo e vengono sorteggiati nei primi quattro gruppi quindi a b c e d inghilterra gruppo a girone a vabbè gruppo a girone a chiamatelo come vi pare ma tanto cambia poco vediamo nel gruppo b chi capiterà portogallo vediamo per il gruppo c chi capiterà olanda ovviamente la svizzera va nel gruppo d vediamo chi esce fuori prima del gruppo e potrebbe capitare l'italia croazia quindi l'italia capiterà in un girone da 6 e non da 5 ragazzi porca mignotta aggiungerei spagna gruppo successivo ragazzi polonia quindi polonia nel girone g e l'italia a docazzo sta esce per ultima francia gruppo h l'italia proprio non la chiamano secondo me non ce l'hanno messa hanno evitato dice che ce la metti a fa tanto ecco l'italia dai niente belgio quindi gruppo i per il belgio quindi l'italia nel gruppo j italy italy group j gay gruppo gay e mancini ride siccome sarri noi ha detto che è vabbè abituato allora in questo momento stanno facendo vedere quelle che sono le squadre che verranno inserite nei rispettivi gironi seconda fascia e ovviamente noi ne beccheremo una stanno iniziando già a sorteggiare e speriamo di evitare la germania perché la squadra sicuramente più ostica e insidiosa e fu così che la beccammo tanto con sto culo che ci ritrovamo magari se te sbrighi apri sta palla non è che ci vuole tanto eh evitata la germania ragazzi era importantissimo evitarla e love prende appunti mentre si scaccola perfetto quindi evitata la germania che va nel gruppo con l'olanda ironia della sorte svezia abbiamo evitato anche la svezia ragazzi eh spagna e svezia ecco la bosnia abbiamo beccato non sarà facile è una squadraccia nel senso che è una bella squadra una bella formazione cogeco bene passiamo alle terze per ogni gruppo partendo da là e vediamo chi capiterà l'italia credo di aver capito con la finlandia che sicuramente è abbordabilissima ok ragazzi sicuramente ci poteva di molto molto peggio italia bosnia e finlandia però ripeto eviti la germania eviti la serbia sicuramente scontri più difficili sulla carta e adesso passiamo alla fascia successiva ragazzi le quarte squadre che andranno ad attappare ogni singolo gruppo barra girone vediamo insieme con chi capiterà l'italia perché non mi ricordo sinceramente la squadra rimanente la grecia porca miseria ragazzi la grecia è tosta italia bosnia finlandia e grecia la grecia sicuramente è una delle squadre più toste della terza fascia armenia con l'italia quindi italia bosnia erzegovina finlandia e grecia per l'armenia è la tosta mancano le ultime cinque squadre che andranno ad attappare i gironi da sei tra cui anche quello italiano ma sono tutte squadre abbastanza abbordabili e fu così che qualsiasi squadra beccò l'italia ci perse con l'iksteiner ragazzi italia bosnia grecia finlandia armenia e lichtenstein bene io vado a registrare il post ma questo sicuramente lo vedrete dopo il post se vi siete persi il post andatevelo a recuperare quindi diciamo è andata abbastanza bene poteva andare sicuramente peggio alla prossima